Batman Le loro anime sono perdute Le loro anime sono perdute? È humor ninja Perché non è molto divertente Non abbiamo tempo per queste sciocchezze Combatti Round 1 Fight Lex Luthor Wins Round 2 Fight Lex Luthor Wins Meno uno Meno uno Lex Luthor Sono dentro di te Dovrei fare meglio di questo Round 1 Fight Luthor Lex Luthor 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 Dovrei Luthor Chi Luthor Quattro Voi luthor E G Arra Ei Lex Luthor Wins Grazie, per un momento ho avuto qualche dubbio da quale parte stessi La storia della mia vita, andiamo Eccolo qui Immagina solo quello che potrei fare, e ne trasportandomi ovunque Mi scaricherò la loro di voleria Mentre fai questo, faccio un giro di ricognizione Incredibile, è più avanzato di quel che pensassi Qui è Luthor, sto trasferendo la tecnologia portale ai server della Lexcon Con questo, rifonderò la Lexcon Niente mi fermerà Eccetto me Jax Pensavo di averti sbattuto dentro Sei scappato una volta, ma non succederà più Stavo ammirando la vostra tecnologia portale Mi sarà molto utile Dovrai passare sul mio cadavolo Se proprio insisti Round 1 Flight Cuarare Non Vi Lex Luthor Wins Round 2 Fight Jax wins Round 3 Fight Maximum Panther Wins Le tue braccia cibernetiche mi intrigano. Affascinante emulazione muscolare. Forse le porto con me. Luthor! Flash, cosa hai fatto a Catwoman? Non lo capisci. È una criminale come te. Ti sbagli, Flash. Siamo tutti sulla stessa barca. Chiudi il becco, Luthor. Ti sto per eliminare! Round 1 Flight Che Grazie a tutti 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 Grazie a tutti